Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Oh Fiorentina A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Pomeriggio sorridente per le ragazze Viola Le uomini hanno infatti travolto l'Ellas Verona per 6-0 Staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia Decisive le doppiette di Vigilucci Cleland e Bonetti La FIGC ha preso una decisione ufficiale Per quanto riguarda gli episodi razzisti in campo Infatti le squadre al secondo avvertimento Lasceranno il campo di gioco Al verificarsi gli indeterminati comportamenti Altra decisione presa dalla federazione italiana E' quella di riportare la Serie B a 20 squadre A partire dalla prossima stagione A Firenze sfida tra Fiorentina e Roma Per i quarti di Coppa Italia Pioli schiara la squadra con l'ormai consueto 4-3-3 Simeone parte dalla panchina Dunque canta e mura e le chiesa Spazio a Miraias Invece questa sera in campo Atalanta e Juventus Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi